Benvenuti, benvenuti a questo secondo incontro del Forum Italia-Messico. Sono Daniele Frigeri, direttore del CESPI, e desidero ringraziare tutte le persone che sono collegate, in modo particolare i nostri relatori. Un benvenuto al dottore Sergio Alcosser, presidente del Comexi, con cui il CESPI è appena siglato un memorandum di collaborazione, e che saranno CESPI e Comexi saranno i due punti di riferimento, i due centri studi di riferimento per le attività del Forum. Giusto alcune parole di introduzione di questo nostro seminario, dedicato all'accordo Stati Uniti-Messico e Canada e le sue opportunità. Questo è il secondo incontro del Forum Italia-Messico, che abbiamo lanciato pochi giorni fa. Il Forum è un'occasione di rafforzare e rendere ancora più forti e esplicite le relazioni tra l'Italia e il Messico, attraverso quello che può essere il ruolo di un Forum, cioè quello di aprire dei focus su alcune tematiche centrali nei rapporti tra i due paesi, ma anche sviluppare quelle che possono essere delle prospettive nuove nei rapporti tra i due paesi. Ed ecco perché il primo incontro lo abbiamo dedicato al ruolo delle donne nell'imprenditoria, eravamo al 7 marzo, il giorno prima della festa internazionale della donna, ma perché abbiamo increduto fortemente su quello che può essere il ruolo della donna nello sviluppo anche delle relazioni tra paesi, oltre che il ruolo all'interno del mondo del lavoro. L'incontro di oggi invece apre un'altra finestra, che è la collaborazione economica tra il continente americano e l'Europa e l'Italia. L'accordo Stati Uniti-Messico e Canada, lo vedremo oggi, è un'opportunità anche per il sistema economico italiano, apre un mondo a cui guardare. Il CESPI attraverso questo forum vuole aprire un pezzettino in più nella propria attività. Il CESPI ha come obiettivo quello di studiare quelle che sono le relazioni internazionali e su tutto il continente americano il CESPI ha sviluppato una serie di iniziative. Il taccuino americano è un'occasione di aprire una finestra su quello che accade in modo particolare negli Stati Uniti. Il forum Italia-Messico, che qui oggi celebriamo con questo incontro, apre una finestra su un paese centrale del continente americano. E poi c'è tutta l'area che si sviluppa sull'America Latina, che invece riguarda lo studio e l'approfondimento di tutti gli altri paesi del continente americano dal centro e sud America. Ecco, io non rubo altro tempo e desidero di nuovo appunto ringraziare. Chiedo scusa a nome dell'onorevole Fassino, presidente delle commissioni esteri del Parlamento, che avrebbe dovuto essere qui con noi ma non ha potuto per impegni parlamentari. Il periodo è particolarmente complesso a causa della crisi ucraina, a cui va il nostro pensiero e la nostra solidarietà a tutta la popolazione ucraina. Il presidente Fassino però ha voluto essere presente, inviandoci un video che ora manderò, prima di continuare con le persone presenti. Grazie. Il Messico è uno dei grandi paesi del continente americano, un paese collocato in una posizione strategica, parte del Nord America, con cui ha intense relazioni commerciali, politiche, demografiche, parte dell'America centrale e parte dell'America latina, dell'America meridionale, con cui condivide una comune cultura, una comune civiltà, oltre che intensi rapporti economici e politici. È un paese strategico. Pochi sanno, in Italia, se non chi ha delle relazioni con il Messico, che il Messico è il principale partner economico e commerciale dell'Italia nel continente latinoamericano. La dimensione dei rapporti che l'Italia ha con il Messico è superiore alla somma dei rapporti economico-commerciali che l'Italia ha con il Brasile e l'Argentina, paesi con cui l'Italia ha storicamente rapporti molto intensi, fin dalle correnti demografiche che dalla metà dell'Ottocento in poi hanno portato milioni di italiani a scegliere l'America latina come la loro nuova patria. Il Messico è quindi un importante paese perché negli ultimi anni ha conosciuto uno sviluppo economico, tecnologico particolarmente avanzato. È un paese che ha un sistema industriale che è cresciuto ed è diventato via via più competitivo grazie a una continuazione di innovazione tecnologica. È un paese attivamente impegnato sul terreno ambientale e dello sviluppo sostenibile. È un paese che svolge un ruolo politico in America Latina importante grazie all'attività del presidente Obrador. È un paese cioè importante con cui noi già oggi abbiamo relazioni intense che vogliamo coltivare sempre di più e intensificare sempre di più. Nasce da queste considerazioni la decisione del CESPI di dare vita a un forum Italia-Messico. E io applaudo a questa decisione assunta dagli organi dirigenti del CESPI perché questo consentirà di avere un luogo, una sede, un momento di continua riflessione, analisi, di impulso a relazioni e iniziative con questo grande paese. Mi congratulo che oggi tutto questo venga sancito anche dalla firma del protocollo di cooperazione tra il CESPI e il COMEXI, l'agenzia internazionale messicana. E mi congratulo soprattutto con l'Associazione degli imprenditori italiani in Messico guidato dalla dottoressa Magaldi che già da molti anni sviluppa un'attività di particolare attenzione con il Messico. E naturalmente ringrazio l'ambasciatore che è stato assolutamente protagonista di questa iniziativa fin dall'inizio, che ha salutato con grande calore la decisione di dare vita a un forum Italia-Messico e dal sostegno dell'ambasciata e dalla sinergia di attività tra l'Associazione degli imprenditori e il CESPI non potrà che derivare evidentemente davvero un'iniziativa utile. Utile all'Italia, utile al Messico, utile alle relazioni tra i due paesi, utile a far sì che sempre di più nella globalizzazione, di cui Italia e Messico sono due protagonisti, si affermino valori di scambio equo, di giustizia sociale, di affermazione di diritti, di sviluppo e di prosperità. Grazie e un saluto a tutti voi. Grazie Presidente Fassino e ora darei la parola all'ambasciatore Carlo Garcia de Alba ringraziandolo, non solo per essere qui, ma ringraziandolo appunto per tutto il supporto e il commitment che ha messo in questo progetto. Buonas, buonas tardi. Agradezco molto il supporto e in ausenza riconoscere le generose, ben informate come sempre, le parole del diputato Fassino, querido amigo e, desde l'abbiamo, molto vicino a mexico. Grazie a Daniela Frigieri per la hospitalità e, desde l'abbiamo, saluto anche in ausenza, anche, sto sicuro che non vedremo pronto, dal senatore Verducci, Francesco Verducci, presidente del gruppo di amistà mexico-italia della Unione Interparlamentaria, a la presidenta della Unione, Letizia Magaldi, a mi querido amigo e colega, del embajardo Maru Chacón, che anche con la rappresentante della Unione Interparlamentaria, e Canadà, qui in Italia, di maniera molto speciale. Grazie a tutti. Grazie a tutti al Comix e al Chespi per questa firma. Sto sicuro sarà produttiva. Tanto a essere produttiva, che lo voglio subrayare, in appena di 10, abbiamo fatto a cabo già due seminarii. E, anche, lo dico con orgoglio, con satisfazione, siamo il paese che crea il Foro Italia-México con Chespi per prima occasione. Quindi siamo privilegiati a ottenere un foro specifico di dialogo e di relazioni con Italia a través del Chespi e, anche, con il apoyo di Conixi e di L'Ame. Io chissero, e, anche, con un saluto, perché gli esperti parlano dopo di me, ma non si chiede a destacare, che, da che si approbò il Nocto 2, come anche se le conosce, il Temig, come lo chiamano in mexico, come lo chiamano in mexico, come lo chiamano in mexico. ma è la prima volta che le tre ambasciate degli Stati Uniti, del Canada e del Messico dal primo luglio del 2020 partecipiamo a un evento uniti e come sempre soci e amici e alleati. Quindi in avanti di questo sono contentissimo che le tre ambasciate dai nostri governi parleremo per la prima volta di questo grande progetto che ci unisce, il TANEC e l'accordo dell'euroscanio più grande, più voluminoso a Monza. E questo facciamo parte di tre paesi. Questo non vuol dire che non possa crescere, anzi. E per questo abbiamo parlato con il direttore generale Friggieri che è importante che il mondo internazionale italiano, la società civile, la stampa sapesse dell'opportunità che rappresenta costumano del tutto diverso a quello del 94. Sono due cose completamente diverse. La amica economica, che approfondiscono, arricchiscono la integrazione delle tre economie. Siamo in tre paesi, certamente, ciascuno lo pensa a noi e loro, però i nostri sistemi produttivi sono ulteriormente integrati. Per questo lo sottolineo. Sebbene ci sono circa 1600 aziende italiane e anche in un'unica, qualcuno dice che anche 1800. Per me, devo dirlo con franchezza, sono ancora poche. Per il potenziale di questo accordo dell'euroscanio, credo essere di più. Per questo è importante che gli esperti abbiano accettato l'invito per dirci che altre opportunità hanno le aziende italiane per fare presenza in ogni paese di questo accordo dell'euroscanio. Avremo prima testimonianza dell'azienda Stavannato che è presente in tre paesi, che ci diranno quali sono le convenienze altre pratiche di fare affari con questi tre paesi che, appunto, non insisto, sono ulteriormente integrati. Io chiudo qui, ringrazio di nuovo e poi, anche, prima di passare la parola ai protagonisti, ringrazio al mio narratore, al dottor Comato, che si prenderà cura di seguire questi lavori e, permettetemi, ringrazio anche le nostre traduttrici. Un lavoro complessissimo e le nostre due gravi traduttrici, Guadalupe Valdes e Chiara Morano dell'Ambasciato del Messico, ci stanno appoggiando. Grazie ragazzi. Grazie. Grazie mille. Come diceva l'Ambasciatore, la costruzione di un forum è un po' un cantiere che procede, per cui oggi con l'accordo con Comexi abbiamo saldato quello che è il fondamento della ricerca. L'Associazione Economica Italia-Messico porta la componente delle aziende, la componente economica, ma c'è anche un'altra componente nella relazione tra due paesi che credo sia fondamentale, che era componente interparlamentare, e cioè il dialogo che esiste tra parlamenti e si crea il dialogo politico. E per questo appunto do la parola a Senatore Francesco Verducci, Presidente della sezione bilaterale Amicizia Italia-Messico dell'Unione Interparlamentare. Prego. Grazie. Spero mi sentiate innanzitutto. Bene. Grazie per questo invito, grazie per questa iniziativa. Voglio ringraziare il CESPI e voglio ringraziare Comexi, voglio ringraziare i soggetti attivi che stanno costituendo questo forum economico Italia-Messico che sottoscriveranno il memorandum. È un atto di grande rilievo. Il fatto che io sia qui rende merito ad un lavoro di collaborazione parlamentare che in questi mesi, nonostante le grandi difficoltà dovute al periodo pandemico, abbiamo tenuto vivo e vitale e di questo devo ringraziare in particolare l'attività, l'energia, la grande empatia sempre dimostrata dall'ambasciatore Carlos Garcia de Alba che figura di riferimento fondamentale per i lavori del gruppo dell'Unione Interparlamentare tra Italia e Messico. Al periodo di pandemia segue, nel quale tuttora siamo avviluppati, segue adesso però un periodo ancora più oscuro dato dalla crisi internazionale, dalle drammatiche giornate che si vivono in Ucraina dopo dopo l'invasione della Russia. Tutto questo getta sul destino dei nostri paesi e soprattutto sulla costruzione della pace nella quale crediamo, nella cooperazione internazionale nella quale crediamo, una serie di preoccupazioni molto grandi. Da questo punto di vista a maggior ragione noi che crediamo nel multilateralismo mai come adesso dobbiamo rafforzare quelli che sono i rapporti politici, culturali, economici e naturalmente commerciali tra i nostri paesi. In particolare in questo caso tra Italia e Messico sono due protagonisti a livello mondiale e il loro protagonismo può fare molto per rafforzare il multilateralismo in un momento storico in giornate in cui questo sforzo per il multilateralismo è quanto mai necessario. Per la sua ubicazione il Messico è uno snodo tra i principali continenti, lo sappiamo, tra l'America del Nord e l'America del Sud, tra l'Ase, il Pacifico, l'Europa, l'Africa e questo fa sì che il rapporto con l'Unione Europea e il rapporto con l'Italia abbia una rilevanza geopolitica fondamentale. Penso assolutamente che il tema di cui oggi questa tavola rotonda, che seguirò con grande attenzione, si occupa, sia assolutamente centrale. Sono tante le ricadute potenzialmente utili ed importanti del nuovo accordo di scambio che c'è tra Stati Uniti, Messico e Canada, tante opportunità, un accordo vasto, estremamente complesso, ramificato con innumerevoli implicazioni anche normative. Noi sappiamo per certo che le opportunità per l'Unione Europea e per l'Italia avverranno innanzitutto nell'interpretare al meglio nel contesto del nuovo accordo siglato tra Messico, Canada e Stati Uniti, se sapremmo interpretare al meglio quello che è l'accordo commerciale del 2020 tra l'Unione Europea e il Messico, che può dare alle imprese italiane grandi opportunità, in particolare nel settore della produzione di macchinari, nel settore della manifattura, nel settore della filiera farmaceutica, insomma c'è un tema di sistema paese legato alle potenzialità da cogliere all'interno del contesto del nuovo accordo commerciale. Permettetemi di concludere questo intervento ancora ringraziando tutti gli organizzatori, coloro che interverranno dopo di me, in particolare coloro che animeranno la tavola rotonda, dicendo che lo strumento della diplomazia parlamentare, lo strumento del gruppo dell'Unione Interparlamentare tra Italia e Messico è a disposizione per il lavoro del Forum Italia-Messico, per il memorandum che verrà siglato, il nostro lavoro ha l'obiettivo di rafforzare non solo la reciprocità politica tra i nostri parlamenti, l'amicizia storica tra i nostri popoli, ma una reciproca legittimazione che nasce dal riconoscimento culturale che fa appunto del nostro rapporto qualcosa che ha una missione storica fondamentale. Con questi auspici vi ringrazio in attesa quanto prima di poterci vedere di persona, sapete che sono in corso i lavori in Senato e questo mi impedisce di essere fisicamente, gli auspici quanto prima di poterci vedere di persona per implementare questo importante lavoro. Grazie ancora. Grazie, grazie mille Senatore, grazie anche per la disponibilità a partecipare attivamente a questo forum. Questa è solo una delle prime iniziative per cui ci sarà sicuramente occasione e più di un'occasione di incontrarci. L'ambasciatore rilevava il ruolo delle ambasciate e anche l'opportunità che già questo forum ha creato di incontro tra le diverse ambasciate. Per noi è un onore naturalmente un eccespio avere l'ambasciata degli Stati Uniti, l'ambasciata del Canada con noi e darei la parola a Isabella Cascarano, addetto commerciale dell'ambasciata degli Stati Uniti in Italia. Buon pomeriggio a tutti. È un grande piacere e un onore prendere parte a questo incontro. Ringrazio Cespi e Comexi per l'invito e porre le mie più cordiali saluti e tutti gli illustri regolatori e ospiti presenti in vivenza questa sera. Come già detto, mi chiamo Isabella Cascarano e sono consigliere commerciale e presa l'ambasciata degli Stati Uniti qui a Roma. Il nuovo accordo trilaterale di libero scambio è di enorme importanza per gli Stati Uniti ed è stata una priorità di alto livello per il Dipartimento del Commercio. Come ben sapete, Messico, Stati Uniti e Canada hanno un straordinario rapporto commerciale. Gli Stati Uniti hanno un volume di scambio di beni e servizi con i due paesi pari a 1.3 trilioni di dollari all'anno. Canada e Messico sono i primi due mercati per l'asportazione statunitense, un volume tale da garantire circa 3 milioni di posti di lavoro negli Stati Uniti. Grazie a queste forti relazioni, si è resi necessario aggiornare il precedente trattato, il NAFTA, negoziato ormai più di 25 anni fa. Non si trattava solo di aggiornare le regole esistenti, ma anche di considerare i settori industriali non ancora esistenti quando il NAFTA entrò in vigore. Vorrei qui sottolineare l'importanza e il carattere innovativo di alcuni aspetti chiave del nuovo accordo dalla prospettiva degli Stati Uniti. Uno dei maggiori benefici del commercio in Nord America è che quasi tutti i beni sono a tariffa zero. Tutti i prodotti che non erano tariffati sotto il NAFTA mantengono questo status anche con il nuovo accordo. Diversamente del NAFTA è stato semplificato il processo di certificazione dell'origine dei prodotti. Vengono state linte invece regole più stringenti sull'origine dei componenti in alcuni settori, inclusi quelli automobilistico, chimico e dell'acciaio. Queste misure sono pensate per preservare la produzione nordamericana e permettere che solo i produttori che usano un ammontare sufficiente di componenti locali possano ricevere agevolazioni tariffarie. Sempre rispetto al NAFTA ci sono delle differenze sostanziali in alcuni capitoli chiave come i diritti di proprietà intellettuale, i servizi finanziari, l'amministrazione adagonale e altri. In aggiunta ci sono capitoli totalmente nuovi, alcuni dei quali sono un'autentica innovazione negli accordi commerciali degli Stati Uniti. Nello specifico, per quanto riguarda le politiche regolatorie, si è stabilito un impegno a ridurre e prevenire le barriere non tariffarie attraverso una maggiore trasparenza e coordinamento. Il capitolo sul commercio digitale dispone una serie chiara di regole tali da permettere e incoraggiare la creazione di un mercato solido. Ancora è stato creato un comitato per le piccole e medie imprese in modo ad attivare un costante dialogo tra le parti. Per la prima volta la questione ambientale e quella del lavoro vengono posto al centro dell'accordo. Questo passaggio rappresenta la disposizione più forte di qualsiasi accordo commerciale degli Stati Uniti. Concludendo, restiamo convinti che la sigla di questo accordo rappresenta un pilastro fondamentale non solo per le relazioni tra i nostri paesi, ma un esempio di cooperazione commerciale nel rispetto dei diritti. Colgo la questione per dire che il nostro ufficio commerciale è a completa disposizione delle aziende italiane che desiderano investire negli Stati Uniti e beneficiare di questo accordo di libero scambio. Non esitate a contattarci. Grazie ancora per l'invito e lascio ora la parola agli altri relatori. Grazie. Grazie. Grazie mille. Ed ora la parola all'altra ambasciata coinvolta all'interno dell'accordo. Passerei la parola a Edith Santiler, addetto cominciare dell'ambasciata del Canada in Italia. Prego. Grazie e buonasera a tutti. Sono molto lieta di essere qui oggi e vorrei ringraziare gli organizzatori per l'invito a partecipare a questo evento. Il Canada è un paese aperto al commercio. Naturalmente, data la nostra geografia, un percentuale molto importante del nostro commercio avviene in Nord America. In effetti, delle 20 città più grandi del Canada, 16 si trovano a 90 minuti di auto del confine tra Canada e gli Stati Uniti. Il NAFTA ha avuto un impatto positivo sull'economia nordamericana, supportando un mercato stabile, integrato e competitivo, con il commercio trilaterale di merci in crescita esponenziale, raggiungendo un totale di 1,1 trilioni di dollari USA nel 2019, ovvero circa 125 milioni di dollari all'ora. Questa integrazione e cooperazione commerciale ci ha reso e continua a renderci più competitivi nel mondo e sostiene la prosperità per le imprese, i lavoratori, le comunità e i consumatori in tutto il Nord America. La modernizzazione del NAFTA segna un'importante pietra miliare nell'evoluzione delle nostre relazioni commerciali con gli Stati Uniti e Messico. Il risultato finale è preso da gli elementi chiave del NAFTA, modernizzando le disposizioni per affrontare le sfide commerciali del ventunesimo secolo. Tra pochi minuti avrete un'ampia presentazione dell'accordo, ma solo per dare qualche esempio. Di fronte al Covid-19, il mondo riconosce l'importanza per le imprese di operare nello spazio dell'e-commerce. Il nuovo capitolo su commercio digitale aiuta a facilitare la crescita economica e aumenta il commercio di prodotti digitali trasmessi elettronicamente, proteggendo nel contempo la libera circolazione delle informazioni attraverso le frontiere e mantenendo i quadri giuridici per la protezione delle informazioni personali degli utenti. CUSMA include anche un nuovo capitolo per le piccole e mezze imprese, che riconosce il contributo economico sempre più ampio fornito dalle piccole imprese in tutto il Nord America e promuove la cooperazione tra Canada, Stati Uniti e Messico per aumentare le opportunità commerciali di investimento e di investimento. Ho parlato del Nord America, ma i vantaggi di questo accordo non si limitano alle imprese di questi tre paesi. Come diplomatico canadese in Italia, è difficile non fare riferimento alla profonda e lunga amicizia tra Italia e Canada. Il Canada e l'Italia hanno solide relazioni commerciali che risiedono negli investimenti bidirezionali, nonché nell'innovazione e partnership tecnologiche. Grazie al nostro sistema economico altamente integrato, gli investitori stranieri in Canada, anche italiani, hanno un accesso preferenziale al mercato nord americano. Ma non è tutto grazie ai nostri 15 accordi di libero scambio, tra cui il CPTPP, che copre la regione Asia-Pacifico, e il nostro accordo di libero scambio con l'Unione Europea, o CETA, che sicuramente conoscete, le imprese in Canada beneficiano dell'accesso preferenziale a un mercato globale con un PIL combinato di 53 trilioni di dollari. Vorrei concludere dicendo ancora una volta che crediamo fermamente che il commercio con partner affidabili e prevedibili sia positivo per le nostre economie. Il rapporto USA-Messico-Canada è un modello per il mondo. Come affermato in precedenza, il risultato finale del CUSMA ha preservato gli elementi chiavi del NAFTA e ha modernizzato le disposizioni per affrontare le sfide commerciali del ventunesimo secolo. Continuando a collaborare con paesi come gli Stati Uniti, Messico e Italia, riteniamo che saremo in una posizione migliore per rispondere alle sfide in corso con il Covid-19 e forgiare un futuro più forte e prospero per le nostre popolazioni e le nostre imprese. Grazie. Grazie, grazie mille. Siamo già entrati un po' nel vivo del tema del seminario di oggi. Voglio ringraziarla perché appunto tutte e due le ambasciate avete sottolineato due temi importanti. uno è il tema appunto dell'integrazione, l'integrazione che è prevalentemente economica, ma non solo, lo diceva anche il senatore Verducci, l'integrazione significa anche dialogo tra culture e amicizia tra popoli. e il secondo tema è la parola chiave opportunità, opportunità che questo nuovo grande mercato che attraversa Stati Uniti, Messico e Canada rappresenta anche per le aziende e per i sistemi economici dei paesi che desiderano interaccio o dialogare. Per questo appunto darei la parola a dottoressa Letizia Magalbi, presidente dell'Associazione Economica del Messico in Italia, nota di recente, da poco tempo, ma già molto attiva nel panorama e per un suo saluto, ma anche un suo commento sulle opportunità che per il sistema economico italiano si aprono all'interno di questo forum. Buonasera a tutti e ringrazio l'ambasciatore Carlos Garcia de Alba, il mio nome Fassino che mi rappresenta, il direttore Frigerio, il presidente Sergio Alcosaer per l'avvio congiunto del forum permanente Italia-Messico e molto piacere i rappresentanti di entrambi le ambasciate del Canada e degli Stati Uniti. Per me è un grande piacere essere qui e presentare l'Associazione Economica del Messico in Italia che è nata da poco più di un anno e su impulso dell'ambasciatore Carlos Garcia de Alba e di tutta l'ambasciata, perché nonostante la grande importanza del Messico, del rapporto Italia-Messico, non esiste ancora una Camera di Commercio Messicano in Italia, nonostante ci siano quasi 40 Camere di Commercio Estere in Italia. La Camera di Commercio, l'Associazione oggi, ha al suo attivo quasi 30 aziende, tra le più importanti del panorama italiano. il vice-presidente è il dottor Angelo Pansini di Leonardo Finmeccanica e il segretario generale di dottor Giovanni Sabini di Fiorucci Campofrio del gruppo SIGMA, uno dei gruppi più importanti. Il presidente Univaro è proprio il nostro ambasciatore. Ma siamo circa 30 aziende da vari settori, dal food al beiragio all'automotiva, all'arenatica, alla sanità, ma a dimostrazione di varie dimensioni, da grandi aziende a piccole aziende, anche a dimostrazione del fatto che possono entrare nel mercato messicano non soltanto le grandi aziende, ma anche le aziende piccole e medie. Le altre 10 aziende sono già in pipeline per entrare, quindi quasi 40 aziende è soltanto un anno dalla nascita. Questo per appunto sottolineare l'interesse e la forza dell'economia di due paesi. Ricordiamo appunto che l'Italia è il terzo partito commerciale del Messico in Europa e invece il Messico è addirittura il primo parte principale mercato in America Latina appunto per i servizi italiani. Quindi è assolutamente importante sottolineare che siamo felici di poter promuovere assieme a questa prestigiosa Presidente Parterre quella che è l'importanza di un ingresso anche del T-Mac e quindi del fatto che non soltanto l'opportunità per le imprese italiane in Messico è quella di accedere al mercato messicano, ma di accedere a un mercato più grande appunto del mondo è quello del mercato degli Stati Uniti e del Canada. Sottolineando quella dell'importanza delle supply chain e della logistica, dei materiali, dell'importanza di avere appunto un presidio oltre l'oceano appunto nell'Atlantico che dia appunto forza e stabilità in un momento in cui l'Europa purtroppo ha le sue difficoltà. Quindi insomma grazie ancora del buon minuto e qui siamo con noi sempre quindi al fianco per supportare per promuovere la crescita sempre maggiore della presenza dell'economia e nello scambio tra i due paesi. Grazie. Grazie, grazie mille dottoressa Megaldi. Ora entriamo nel vivo del nostro incontro e del nostro dibattito. Mi invito qui a moderare Dario Conato, coordinatore in tutta l'area America Latina del CESPI che prenderà la moderazione di questo webinar. Bene, grazie dottor Frigeri, grazie a tutti i partecipanti e a tutti i relatori e relatrici che animano questo secondo incontro del forum Italia-Messico. Vorrei ricordare che l'attenzione del CESPI verso l'iniziativa di integrazione economico-commerciale dell'America del Nord, non inizia oggi, vorrei citare uno studio realizzato dal nostro direttore scientifico Marco Zupi due anni fa per l'osservatorio di politica internazionale del Parlamento italiano che è disponibile online, uno studio dal titolo dall'accordo NAFTA alla USMCA, implicazioni per l'Unione Europea e per l'Italia. Ecco, da quel momento diciamo un'attenzione che non si è spenta e che trova nel forum Italia-Messico un campo aperto per approfondire e portare avanti questo sforzo di comprensione e anche di accompagnamento dei processi di globalizzazione dei nostri paesi. Il primo luglio è entrato ufficialmente, il primo luglio del 2020, è entrato ufficialmente in vigore il nuovo accordo di libero scambio tra Canada-Messico e Stati Uniti, con le sue due sigle, USMCA in inglese e T-MEC, Messico-Estado-Sullo-Canada in spagnolo, che sostituisce il NAFTA, già citato, già ricordato negli interventi che ci hanno preceduti, e che per 25 anni aveva definito gli standard per rafforzare l'integrazione commerciale ed economica tra i tre paesi firmatari che costruiscono lo spazio nordamericano. Oggi lo UNCEO-T-MEC è l'accordo di una regione, l'America del Nord, che non solo comprende, tra l'altro, la prima economia del mondo negli Stati Uniti, ma che resta insieme all'Unione Europea uno dei termini fondamentali della produzione, del commercio e degli investimenti mondiali. C'è da dire che accordi di carattere regionale come questo possono portare senz'altro alla creazione di occasioni di commercio, alla creazione di commercio, allo sviluppo del commercio all'interno di un'area, ma possono anche provocare diversioni del commercio e dei flussi economici ad anno di paesi terzi. L'effetto netto sul commercio internazionale di processi di questo tipo è da vedere volta per volta e dipende da una serie di fattori. Fra questi, nel nostro caso, vorrei citare l'importanza degli accordi di libero scambio, già citati peraltro, dell'Unione Europea con ciascuno dei tre paesi firmatari dell'accordo. Ed è sfruttando la combinazione fra accordi Unione Europea, paesi dell'area nordamericana e opportunità di integrazione regionale dell'America del Nord, che può venire fuori un risultato positivo che valorizzi il Made in Italy, anziché penalizzarlo. Quindi, c'è da dire che il nuovo accordo commerciale del 2020 dell'Unione Europea con il Messico prevede un percorso molto interessante e positivo verso un sostanziale azzeramento dei dazi in tutti i settori. Vorrei solo aggiungere un punto, prima di dare la parola ai nostri ospiti, che questa è la prima volta che un accordo di libero scambio integra gli impegni ambientali presi da ciascuno dei firmatari. L'introduzione di nuovi impegni ambientali per migliorare la qualità dell'aria e ridurre i rifiuti marini sono disposizioni importanti da tenere presente per le imprese europee e italiane che opereranno in questi paesi. I capitoli su ambiente e lavoro evidenziano, peraltro, uno spostamento, una convergenza fra gli standard dell'area del Trattato nord-americano e dell'Unione Europea. Ecco, con questa breve, parziale, ma ritengo significativa, la sottolineatura di alcuni aspetti, do senza altro la parola al patrino dei nostri ospiti, il presidente del Conexi, l'ingegner Sergio Alcosser. L'ingegnero Alcosser è presidente di Conexi, come abbiamo detto, il Consejo Mexicano dell'Assunto Internazionales, è laureato in Ingegneria Civile presso l'Università Nazionale Autonoma del Messico ed è dottore di Ingegneria presso l'Università di Austin in Texas ed è inoltre dottore di Moris Causa presso l'Università dell'Arizona. Ha numerosi titoli honorifici di università e istituti di ingegneria strutturale. Ha svolto incarichi nel governo federale messicano legati a energia, sviluppo tecnologico e relazioni internazionali. È membro di Accademia e Società di Ingegneria in Stati Uniti e in Messico e presiede il Mexico Exponenzial, un centro di riflessione per l'innovazione tecnologica. E do senza altro la parola all'ingegnero Alcosser che ci illustrerà le caratteristiche dello spazio nordamericano, quali siano le caratteristiche specifiche e le sfide del trattato che qui stiamo analizzando. Molte grazie. Molte grazie. Primero che di un'evoluzione, a dire che qu'è l'intera di gonna e ch'lovo iniziare நі a don i Daniel Figieri per la sua hospitalità in questo metà magnifichque, storico, dentro della città di Roma, una città di un'entraenele e importante, per la città di e soprattutto per la mia. Città di un'oliva, quindi moltissima grazie per l'anfitriк e anche grazie per la conoscenza per la conoscenza per con il COMEXI di aver firmato questo convenio di collaborazione tra le due instituzioni che, senza dubbio, sarà una gran utilità per i nostri paesi. Molte grazie. Grazie a tutti i nostri spettatori, i nostri spettatori di México-Italia, Carlos García de Alba, per aver iniziato questa conversazione con il Chespi, per aver fatto una forza della naturalezza che genera la idea del Foro México-Italia, e del quale con i beneficiari del Comex e Chespi. Molte grazie, signor Embajador. Igualmente, agradezco la parola del deputato Pierio Frasino, così come del senatore Francesco Berducci, con referenza a la importanza della relazione di México-Italia. Ha sido señalato che Italia è la prima investista nella relazione commercial in America Latina, in questo caso, Mèxico. e abbiamo una similità di temi, valori, l'interesse per preservare la democracia, i valori occidentali, il respeto a le libertà, e questo non suono a Mèxico e Italia. Quizà la unica cosa che nos divide è il fútbol, quando ci tocca giocare, e, fondamentale, come succede, a Mèxico, a Mèxico, a Mèxico, a Mèxico, differenza che abbiamo con l'Italia, qui è la unica. l'interesse Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. volumene su comercio con Estados Unidos alcanzò valori di 210 mil milioni di dollari e 200 mil milioni di dollari respectivamente cifras che implicano participazioni del 4.6 e del 4.4% in il total del comercio de Estados Unidos con il mondo questo complementa la grafica che mostro il Dr. Alcocer è dove dice che i 3 paesi di America del Norte siamo i che abbiamo il commercio più forte con Estados Unidos e gli USA non deve distraerci a altri socios commerciali che sono menoli da l'entrata in vigor del Trattato di Libre Comercio di America del Norte hace 28 anni compartimos una complica e profunda integrazione productiva lo cual refleja la fortaleza di nostra alianza commercial per me questo è lo più importante le cadenze di valore integrati che abbiamo lograto con lo cual abbiamo una economia che si dirige hacia la produzione di benessi industriali cada vez di più complessi e più più aggiornato seggata durante casi tre décadas México ha consolidato come leader global in sectores come la automotriz il aeroespacial e el elettronico de quelli dependen milioni di persone e famiglie. Il settore agroindustriale anche avvicinò la integrazione produttiva, si tecnificò e aumentò tanto il valore delle exportazioni come la quantità di produttori che exportano. México è una potenza producendo certi tipi di produttori agroindustriali e agroindustriali. La entrata in vigor del Tratato entre México, Estados Unidos e Canadà, il T-MEC, sento le basi per che la regione mantenga questa tendenza di integrazione produttiva e sviluppo le industrie del futuro. Otro dei fattori che ha reaffirato la integrazione tra i tre paesi dell'America del Norte sono i meccanismi di cooperazione regionali come il dialogo economico di alto e la cumbre di leader di America del Norte, mediante le quali abbiamo identificato accioni conjuntate che permettano construir cadenze di suministro resilienti da una perspectiva regional. Si bien la apertura comercial modernizzò la estructura productiva di México, aún quedano importanti desafiosti per garantire che i benefici del commercio internazionale che arrivano a più empresas e più regioni. Come lo dice Sergio, i Tratati di Libre Commercio aiutano a che il commercio sia libero e che cresce, però ci sono molti altri factori che dependen di altri tipi di politiche, non di la politica commerciale. In questo senso, i nostri meccanismi di cooperazione regionali e le ferrami che ci ha avuto la extensa reazione di trattati commerciali che abbiamo in México rappresentano una grande opportunità. Perdono. a la inversione e al commercio con Europa, con Asia e con América Latina a través de una extensa red de 14 tratados de libre comercio, 32 acuerdos de promoción y protezione recíproca de inversiones y múltiples acuerdos para evitar la doble tributazione. che abbiamo commercialmente. A questo mecanismo della Alianza del Pacífico ingresò recentemente Singapur come paese associato. México anche pertenece al Tratato Integral Progresivo di Alianza Transpacifico. Questo tratato lo componen 11 paesi signatari, tra loro, perdono, hai algo malo qui con le grafico, però déjeme dire, questo Tratato di Alianza Transpacifico ha 11 paesi signatari, Australia, Brunei, Darazolam, Canadà, Chile, Malasia, México, Japón, Nuova Zelanda, Perù, Singapur e Vietnam, con lo cual México abre más sus oportunidades en Asia Pacífico. Y además de los sistemas de acuerdo de libre comercio y mecanismos de integración que ligan a México con las zonas más dinámicas de crecimiento económico del mundo, déjeme decirles rápidamente cuáles son las ventajas que ofrece México como plataforma productiva para atraer la inversión. Déjeme dejar de compartir la pantalla y concentrarme en los puntos que creo yo son muy importantes para Europa. México tiene una destacada posición geográfica estratégica, tiene costos competitivos con capital humano joven y altamente calificado, tiene estabilidad macroeconómica, eficientes vías de comunicación por carretera y vías ferroviarias hacia Estados Unidos y Canadà, tiene litorales y puertos hacia el Golfo de México, hacia el Caribe y hacia el Pacífico, tiene una extensa red aeroportuaria con eficientes comunicaciones para carga aérea en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México y Cancún. Tenemos un amplio mercado interno de 132 millones de personas, concentrado en tres grandes urbes, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y un extenso grupo de ciudades intermedias con gran dinamismo, como Ciudad Juárez, Tijuana, Saltillo, Torreón, León, Puebla, Veracruz y Mérida. Tenemos una población joven en su mayoría, un alto número de egresados de escuelas de ingeniería, como señalaba Sergio, una extensa red de universidades y centros de estudio de nivel superior y centros de capacitación para técnicos. Tenemos mano de obra capacitada para la industria. Algo que no se sabe mucho, pero que México tiene, son más de 200 centros de investigación y desarrollo en diversos campos, desde agricultura hasta industria aeroespacial. Tenemos capacidad para producir manufacturas avanzadas con productos de mediana y alta tecnología. Hay que recordar que México fue país invitado a la Feria Industrial de Hannover en 2017, en la que mostró sus adelantos en Manufactura 4.0. Tenemos también más de 350 parques industriales en los que las empresas pueden encontrar todo tipo de facilidades para una rápida instalación y puesta en marcha de sus empresas. Contamos con un esquema muy innovador que se llama Shelter, mediante el cual el parque industrial se encarga de la parte legal y administrativa de la instalación de una nueva empresa y los inversionistas pueden concentrarse en lo que saben hacer, en la producción. De esta manera, en seis meses, a partir de la llegada de una nueva empresa a México, pueden estar ya en capacidad de exportar sus productos. Este es un rápido repaso del potencial que México tiene como plataforma industrial. México está abierto para continuar con la historia de exitosa colaboración industrial con Italia y con Europa. Muchas gracias a los traductores, gracias al público, sobre todo, gracias a Sergio, gracias a Carlos y gracias a Daniel. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chacón, de este cuadro que presenta en México es un periodo muy dinámico, sea hacia el Atlántico y oltre, entonces hacia el área euro-asiatica, hacia el resto de América Latina, hacia, y esta es una evolución particularmente acelerada en los últimos años, hacia toda el área del Pacífico. A questo punto abbiamo, per l'ultimo espositore, l'intervento del dottor Daniel Fritelli, l'ingegnere Daniel Fritelli, del Stefanato Group. L'ingegnere Fritelli è Head of Sales per Stefanato Group in América Latina da oltre dieci anni. e sotto il suo mandato il gruppo ha consolidato la propria presenza in América Latina con l'apertura, fra l'altro, della Greenfield in Brasile. Precedentemente, l'ingegnere Fritelli aveva lavorato soprattutto come consulente per aziende in vari settori, nell'energia, nell'automotive e la microelettronica. l'ingegnere laureato in Ingegneria Industriale, appunto, e possiede un master in microelettronica conseguito presso l'Università di Bordeaux in Francia. Ingegner Fritelli, in questa ultima parte dell'incontro abbiamo pensato di aprire un'esperienza diretta, quella del gruppo di cui lei qui rappresenta, e ci puoi dire in due parole che cos'è lo Stevanato Group? Buonasera a tutti, grazie per averci invitati a testimoniare al vostro evento. Sì, il gruppo Stevanato è un gruppo che ha sede in Italia, ma con un respiro decisamente internazionale. Siamo presenti, infatti, con siti produttivi e uffici commerciali in più di nove paesi. Con le nostre soluzioni integrate supportiamo l'industria farmaceutica lungo tutta la supply chain, dallo sviluppo del farmaco fino alla commercializzazione. Produciamo, infatti, soluzioni in vetro per il contenimento dei farmaci, macchine per il controllo di qualità e per l'assemblaggio dei dispositivi medici e siamo anche presenti nel settore dei kit diagnostici. Siamo stati, alla verità, e l'avete menzionato prima in varie presentazioni, siamo stati in prima linea nella lotta contro il Covid negli ultimi tre anni. Abbiamo fatturato di 845 milioni di euro nel 2021 e abbiamo 4.400 dipendenti intorno al mondo per dare un'idea generale di cui siamo attuando nel mondo farmaceutico. Come è andato, come si è svolto lo sviluppo dello stevanato gruppo nella zona, specificamente nella zona interessata all'accordo libero scambio, quindi nei paesi del Nord America? Sì, allora, in verità la presenza del gruppo stevanato nella zona di libero scambio corrisponde al primo green field del gruppo. È stata dunque una decisione pesata attentamente prendendo in considerazione ovviamente tutti gli aspetti, non solo gli aspetti economici, perché per noi c'erano anche altre possibilità, in particolare in Asia. Ma diciamo che la congiunzione degli aspetti economici, i vantaggi offerti dal Messico, e lì citerei anche io alcuni vantaggi che sono stati menzionati primi, soprattutto la posizione strategica del punto di vista della logistica e la vicinanza con i confini con gli Stati Uniti, e la presenza di un personale bilingue con istruzione tecnica avanzata, con un'altra concentrazione di università e indirizzo tecnico, e in più ovviamente l'accesso al mercato nordamericano tratti al climate, l'ex NAFTA, ha permesso di arrivare per noi a una decisione interna semplice. Infatti siamo arrivati al Messico nel 2008 e dopo 15 anni possiamo dire che la nostra scelta è stata azzeccata. Adesso l'ultimo step della nostra evoluzione, diciamo in questo accordo libero scambio, è più legato alla creazione degli Stati Uniti che sarà operativo nel 2024, che andrà a complementare il portfoglio dei prodotti che abbiamo già investito, perché anche in questo caso beneficeremo ovviamente della separazione della merce. Certo. Quali aspetti dell'accordo di libero scambio sono particolarmente significativi per la vostra attività, per l'attività del vostro gruppo? Sì, allora effetti lo menzionavo prima, non è solo stato l'aspetto business, ma effettivamente il fatto di poter contare sull'accordo T-MEC. E lì vorrei sottolineare due aspetti preponderanti per noi. Prima l'agenzione del pagamento dei dazi, perché apparentemente sembra un vantaggio scontato e magari anche banale in un certo senso, però chi fa business in America Latina sa che i dazi possono realmente impedire il business. Noi abbiamo affrontato situazioni dove i clienti chiaramente non volevano importare di fronte alla complessità amministrativa. Dunque questo è decisamente un vantaggio molto interessante. Il secondo punto è un vantaggio legato al T-MEC, anche se non fa parte strettamente dell'accordo, però si tratta della possibilità di importare temporaneamente dei beni soggetti a trasformazione. In alto parole, non paghiamo tasse sulla materia prima importata a condizione che la trasformazione a prodotto finito e l'esportazione non avvenga in un periodo superiore a 18 mesi. Questo è un vantaggio economico molto importante per due aspetti. Uno ovviamente il beneficio sulle imposte, ma anche alla fine sul flusso di cassa, perché parliamo di un'eggenzione e non parliamo di un rinforzo delle tasse. Bene, ecco, in conclusione, sembra di capire che la vostra esperienza è quella di una combinazione di successo fra le opportunità offerte dall'accordo fra l'Unione Europea e Messico nello specifico e poi la possibilità di muoversi sul mercato ampio di quasi 500 milioni di abitanti. Sì, esattamente. In questi giorni sono proprio, tra l'altro, in sede in Italia e ho avuto modo di parlare con il nostro presidente e lui mi commentava molto chiaramente che all'epoca, effettivamente, l'unione dei vantaggi offerti dal Messico con le condizioni del T-Meg per chi ha un business plan valido offre realmente un'altra probabilità di successo. Grazie, Maldini Fritelli. Molte grazie per questa testimonianza che penso è molto indicativa per altre aziende che siano interessate a percorrere questa strada e aprire opportunità, aprire opportunità offerte da questo grandissimo spazio commerciale umano. Ecco, siamo andati molto avanti nel tempo con questi interventi che non potevano assolutamente essere contenuti al di sotto del tempo che hanno preso. Io ringrazio il CESPI che ogni tanto mi invita a fare la moderatore pur sapendo che io non so ricordare a chi interviene e il tempo che resta a sua disposizione. Sono venuto per l'autogestione e questi sono i risultati, ma quando gli interventi sono particolarmente importanti sono i risultati positivi. Quindi io ringrazio tutti i nostri ospiti, le nostre ospiti e a questo punto non ho nulla altro da aggiungere se non che la materia è di grande interesse. Come CESPI continueremo a seguirla con attenzione. Ripeto il documento disponibile online del 2020 in cui facevo una prima analisi delle opportunità di questo spazio. Vorrei cedere la parola a qualche illustre rappresentante per non essere io a chiudere questo. e l'anfitriore e il signor ambasciatore se lo giocano. Grazie. Concludo di nuovo con parole di ringraziamento agli ospiti, alle traduttrici, a chi si è collegato con noi per dare un appuntamento al terzo appuntamento, al prossimo incontro che verrà organizzato appunto dal Forum Italia di Messico. e proveremo ad affrontare un altro tema per un'altra finestra su un tema centrale nei rapporti tra i due paesi sempre in quest'ottica di evidenziare quelle che sono opportunità ma anche punti di interesse e di lavoro comune. Ecco, e qui mi fermo ringrazio tutti di nuovo e arrivederci. grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.